L'Inacad della Compagnia D'Usservo, allora Cervo in blu di inchiostro, la riviera dei libri, torna a casa con degli appuntamenti didattici importanti, dei laboratori, giusto? Esatto, e diciamo che valore aggiunto di questa rassegna è proprio questa caratterizzazione con laboratori didattici che partiranno appunto da venerdì 18 gennaio, sempre nella stessa fascia oraria 17.30-19.30 con la professoressa Emanuela Rotta Gentile dell'Iceo Viesieu d'Imperia che propone un percorso di lettoscrittura creativa lettore consapevole. Si tratta di un'analisi di racconto, del racconto breve che spazia da Hemingway a Calvino, a Fenoglio e quindi diciamo dall'America alle Langhe in Piemonte. Quindi siamo veramente appunto felici di questa novità e soprattutto invitiamo non soltanto docenti e studenti ma anche persone proprio non addette ai lavori che potrebbero essere interessate a questo percorso.